Valle arancio della free zone di Francesco Pernici è quella da seguire, il favorito di questa gara, subito prendere la pesta davanti a Massimo Flaminni, all'interno lotta per entrare nella scia di Pernici, dai Fra, dai, 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 dai dai Fra, dai, 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 dai 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 Francesco Pernici non c'è niente da fare i genui, il tempo, 1-5-31 al solitario LA BOFRA!